Amiche e amici di Memo Sampdoria, la tentazione di darmi malato, di inventarmi giustificazioni come a scuola, simulare un mal di pancia ai tempi della scuola, una febbre, sto male, non posso fare, le pagelle di Inter Sampdoria 5-1 è stata forte ma alla fine mi sembra corretto, una settimana fa ho goduto a fare quelle di Sampdoria a Roma e bisogna anche sottoporsi alla tortura di tentare di analizzare, mentre vedo ancora scorrere le immagini dei giocatori dell'Inter che festeggiano il giusto e meritato Scudetto, provare a commentare quello che è successo a San Siro, io tralascerei la consueta analisi giocatore per giocatore perché non ha senso, io dei voti ho provato ancora a darli nel primo tempo anche se l'atmosfera balneare già affiorava, mi perdonerete se avete resistito anche voi nel secondo tempo a guardare questa partita e tra l'altro una cosa non banale se l'avete fatto come l'ho fatto io perché in un sabato pomeriggio in cui siamo tutti praticamente in zona gialla con il meteo, insomma guardarsi sta roba senza motivazione in più assistere a sto spettacolo indecoroso aggiunge una specie di medaglia al nostro essere tifosi di calcio in particolare della Sampdoria. Cosa possiamo commentare di questa partita? Beh allora, chiaramente questa partita dà una prova in più, un indizio a supporto della tesi di chi non è pro Ranieri, pro conferma di Ranieri che è ancora in ballo per l'anno prossimo ma sembra più orientata verso il sì, io non sono tra questi, non sono un fan sfegatato di Ranieri ma se rimane Ranieri con questa squadra, con questa situazione a me può andare bene, così come ho detto che la partita contro la Roma era una certificazione di una squadra che iniziava ad avere una sua identità e della capacità di Ranieri di dare a differenza dei campionati scorsi, delle motivazioni alla squadra nella seconda parte di campionato a salvezza raggiunta e Europa irraggiungibile, oggi posso dire che la partita è stata preparata in modo disastroso perché c'era un Inter che aveva appena vinto lo Scudetto, il problema è che pure la Sampdoria sembrava che avesse appena vinto lo Scudetto e vi do questa notizia, non è successa questa cosa, non abbiamo vinto lo Scudetto, l'abbiamo vinto 30 anni fa, quasi, però insomma a parità di motivazioni blande e di approccio alla partita allegro ci stanno 4 gol di differenza, questo dice il tabellino, volendo parlare di qualche singolo, io darei la sufficienza a Udero, vi dico il secondo tempo ho cominciato anche a non guardarlo, è partita la polemica via cellulare insomma tra tifosi, cose, amici eccetera eccetera, quindi Udero se non altro ha sfoderato nel primo tempo quella paratona su Hakimi, cerco di rimuovere tutte le cose orribili che ho visto perché non rimangano nella mia memoria da tifoso, proprio come meccanismo psicologico di autodifesa e mi tengo quelle tre cose belle o che mi hanno fatto sorridere in questa partita, pochissime, quindi la parata di Udero, lo stop di Candreva nel primo tempo sul rinvio di Udero da 60 metri, palla messa giù andando avanti a correre, molto bello, il gol dei Keita ha fatto molto ridere perché Candreva ha masticato sto pallone, Andanovic non ci ha fatto una bella figura ma sembrava dentro, tutti fermi e penso basta, non sono serviti neanche i cambi, la rivoluzione nel primo tempo a dare questo messaggio, cioè nell'intervallo, i quattro cambi sono usciti, Tonelli, Torsby, Jankto e Gaston Ramirez, tra l'altro formazione iniziale ancora una volta rivoluzionata, ancora una volta io stavo, nella mia genitata stavo pensando, vedi una delle forze di Ranieri è stata quella di, cambiando continuamente formazione, far sentire tutti i coinvolti, per esempio Gaston Ramirez ormai lo pensavamo un po' fuori dal progetto, complice del fatto che sia in scadenza e non ha rinnovato, quindi a giugno immagino ci saluterà, invece è stata disastrosa questa scelta, chiaramente col senno di poi, per carità, quindi nel primo tempo devo sottolineare, purtroppo le prestazioni peggiori sicuramente, vabbè, Ramirez fantasmissimo, molto male Torsby, spiace dirlo, insomma è umano anche lui, però proprio in affanno, in preciso davanti, è quello, insomma sappiamo che può, non glielo chiediamo quella la precisione tecnica, ma non ha accompagnato nell'area quando crossavamo nel primo tempo dell'Inter, non lo vedevo mai assaltare, è sempre in affanno su Gagliardini che gli ha giocato in testa una partita mostruosa. Disastroso anche Silva, bisogna dirlo, secondo rigore consecutivo concesso nello stesso identico modo, quindi magari mettiamolo lì dieci minuti ad allenarsi sui cross, sui tiri che arrivano, perché lui parte bene con le braccia dietro, poi l'istinto lo porta ad allargarle, è quello lì, purtroppo è calcio di rigore, quindi male loro due e anche probabilmente Augello ha fatto una delle esibizioni peggiori della sua stagione, che rimane positiva, evidentemente perché non è che da questa partita dobbiamo trarre giudizi definitivi, insomma lo sapete Augello che ha rivisto i fantasmi dell'andata, seppur in quell'occasione Hakimi era indiavolato perché l'Inter doveva recuperare il risultato, oggi Hakimi si è acceso ogni tanto quando serviva, però tanto è bastato per mandare in tilt Augello e la Sampdoria, che nel primo tempo non ha approfittato di quei palloni che l'Inter ha perso giochicchiando in difesa, perché chiaramente come detto anche l'Inter, seppur comunque più convinta della Sampdoria, però non era l'Inter che doveva guadagnarsi uno scudetto ancora, era un Inter che qualcosa ha concesso, non siamo stati cattivi nell'approfittarne e quando ripartiva bastava semplicemente questa cosa che l'Inter fa magistralmente, io sono dell'idea, divaghiamo anche un po' perché non se parliamo solo di cose brutte, sono dell'idea che l'Inter non sia una squadra che gioca male, nell'eterno dibattito sull'Inter che gioca bene, gioca male, se conti, per me l'Inter gioca un calcio stracodificato con i giocatori che sanno leggere le situazioni e come risale il campo l'Inter, nessuno forse in Italia, mi viene da dire, e lo ha fatto nell'occasione dei primi due gol direi, con queste transizioni molto veloci, nel primo è stato impressionante come arrivavamo sempre con un tempo di ritardo e lo scarico del giocatore dell'Inter arrivava sempre prima della pressione del giocatore della Sampdoria, quindi oggi se volete diamo quattro aranieri come emblema della prestazione avvilente della squadra, se non altro in questi casi prendo il manuale delle frasi fatte del calcio, lo apro e trovo a pagina 46, quando perdi una partita male devi dire, e a maggior ragione di più se alle porte c'è un infrasettimanale contro peraltro una Spezia che sarà giustamente assetato di punti, abbiamo subito l'occasione per rifarci, il calcio ti dà subito l'occasione per rifarci, abbiamo l'occasione per rifarci contro lo Spezia che oggi ha perso contro il Napoli e quindi ti deve ancora sudarsi e tanto la salvezza, la permanenza in Serie A. Oggi, per usare una frase da social di quelle abusate, brutte, fastidiose, oggi va così. Grazie per l'attenzione e l'ascolto, aspetto i vostri commenti qui sotto, no insulti, se proprio volete insultate me, non la squadra, io faccio un po' da paravento per i ragazzi di mister Ranieri. Coraggio, dai, è passata.